Scusate Hai frenato? Sei attaccato allora? Sta cominciando a rodarsi Grazie a tutti. 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 Venti tutto a destra. Tutto a destra. Allora, marcia indietro, stessa cosa, non devi mai togliere gas, mai togliere gas. Ok, dagli è tutto, tutto. Ok, dagli è tutto, tutto. Eccolo! Mi deravata! Karin La certainly Eccolo Erik Eccolo 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 Poi i motori gasolio sentono tantissimo la differenza di altitudine. Sì, me lo diceva anche Stefano questa cosa. Tanta volta la spegne perché non c'è lì. Giù tutto adesso. Seconda, giù tutto. Non togliere mai il gas. Non togliere mai il gas. Ma infatti, anzi, troppo è bravo. Troppo se la fa. E' veramente costa. E' un po' di aspetta. E' un po' di aspetta. E' un po' di aspetta. Quasi. Quasi. E' un po' di aspetta. 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 Ah ma sono in trazione posteriore, ragazzi Magari hanno visto lo stesso Gli specchietti, chiudate gli specchietti Mario, sono in trazione posteriore Ah ecco perché sei accucciato Adesso sarà seguito Si è messa da qualche pietra che ha un tipo di ruolo No, 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 sciva Cazzo Vediamo se cazzo Non so potenza del motor Brutta cosa questa Non c'è potenza del motore Non c'è potenza del motore No, no, non c'è potenza del motore Non c'è potenza del motore Sto a lungo, no Non c'è potenza del motore No, no, non c'è potenza del motore Ecco, spento Ho fatto Non c'è un 75% C'è quello, siamo chiamati, siamo chiamati, siamo chiamati, siamo chiamati. Sì, siamo chiamati, siamo chiamati. Sì, 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 siamo chiamati. Sì. Sì, siamo chiamati. Sì. Sì.